Musica Ben ritrovati con l'informazione di Milano Pavia News edizione giorno in apertura del nostro giornale ancora una volta il braccio di ferro a distanza tra TS e i comuni dell'Oltrepo Pavese per la gestione delle vaccinazioni comuni che spingono come è stato ribadito questa mattina in una conferenza stampa in particolare Casteggio, Broni e Stradella sono pronti all'apertura di mini hub per la gestione delle vaccinazioni anti-covid vedo in collegamento proprio dal municipio di Stradella il nostro Ermanno Bidoni in collegamento in compagnia del sindaco Ermanno qual è l'ultimo punto della situazione dopo le polemiche che hai raccontato in questi ultimi giorni? Sì Mario buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori allora come dicevi giustamente poco fa qui a Stradella in municipio si è svolta una conferenza stampa congiunta dei sindaci di Casteggio, Stradella e Broni che poi sono i municipi che si sono messi a disposizione per la creazione di questi mini hub ai quali farebbero riferimento quasi 50 comuni intanto una nota per chi non fosse aggiornato sulle ultime notizie riguardo gli hub vaccinali più altri tre nel territorio dell'oltrepo a Pavese e in Lomellina oltre al lab già attivo a Voghera parlando dell'oltrepo ne sono stati definiti due in Valle Staffora uno a Salisiterme presso Villa Esperia e uno a Varsi per l'area della comunità montana scelte queste che hanno raccolto la soddisfazione dei sindacati che avevano sollecitato appunto l'apertura di centri vaccinali di prossimità per le aree periferiche ma che di fatto hanno escluso quello che è il territorio dell'altro piano di zona dell'oltrepo a Pavese che quindi comprende l'oltrepo centrale e orientale appunto dalle valli Coppa fino a scendere alla Valle Scuropasso a Valversa e quindi con i riferimenti di Casteggio, Broni e Stradella qui con me come dicevi c'è il sindaco di Stradella Alessandro Cantù che ha ospitato questa conferenza stampa congiunta con la quale appunto i sindaci chiedono ad ATS di poter essere autorizzati a proseguire le vaccinazioni perché sono già state avviate anzi in gran parte già concluse quelle degli over 80 anche per le prossime vaccinazioni di massa ecco qual è la richiesta si è parlato di un braccio di ferro in termini giornalistici voi avete ribadito è una richiesta un metterci a disposizione ecco qual è il vostro punto che avete espresso oggi in questa conferenza stampa ma oggi come già fatto in passato noi chiediamo la possibilità dell'attivazione di hub vaccinali in questo caso di tre hub vaccinali a Casteggio, a Broni e a Stradella perché dobbiamo essere al servizio dei nostri cittadini noi crediamo che siccome siamo tutti e tre comuni afferenti come si diceva prima ad uno stesso piano di zona pensiamo che tutti i comuni che graviteranno su questo territorio quindi questa è una richiesta di unità territoriale noi tutto il territorio qua è pronto a Stradella sulla base di quanto abbiamo già fatto per gli over 80 siamo pronti per accogliere non solo i cittadini di Stradella ma di tutta la Valle Versa sono una quindicina di comuni e anche dei comuni di pianura limitrofi e confinanti con Stradella stesso discorso vale per gli altri colleghi di Casteggio e di Broni anche loro hanno avuto l'adesione di una quindicina di comuni ciascuno quindi si tratta di una parte di tutto l'oltrepo orientale di una parte importante comunque di territorio e dobbiamo metterci al servizio dei nostri cittadini quando ci saranno i vaccini se in questo momento non ce ne sono sufficienza per poter attrivare questi hub ma appena ci sono i vaccini noi chiediamo di poter somministrare i vaccini presso gli hub a Stradella, a Broni e a Casteggio perché i cittadini non possono andare dall'alta collina fino a Pavia o fino a Voghera per essere vaccinati per avere una vera e propria vaccinazione massiva bisogna che ci siano più hub come anche il generale Figliuolo aveva auspicato anche perché in una battuta e in un flash siamo in chiusura insomma giustamente ci sono l'organizzazione che avete messo in campo ha funzionato in maniera davvero efficiente è lì da vedere e spesso anche forse meglio questo lo aggiungiamo noi e di quelle organizzate a livello regionale beh io non esprimo pareri su come è stato fatto presso gli altri ma a Stradella sono sicuro che è andato molto bene i cittadini sono soddisfatti c'è la collaborazione di tante associazioni di tanti comuni e quindi anche di altri tanti sindaci di realtà più piccole e quindi siamo assolutamente pronti a ripetere l'esperienza molto positiva che c'è stata a Stradella per gli over 80 grazie allora al sindaco di Stradella Alessandro Cantù se non ci sono domande da studio ti restituisco la linea Mario no per il momento no Ermano torno tra poco però da te perché ci sono altre polemiche inoltre po' pavese polemiche sempre in tema di vaccinazioni perché nelle scorse ore il via libera del governo appunto sulla gestione delle vaccinazioni in azienda le polemiche arrivano in questo caso dagli scranni del Partito Democratico del Consiglio regionale Lombardo Pietro Bussolati ha affermato va bene le vaccinazioni in azienda ma la priorità dovrebbe essere data alle categorie più fragili sentiamo questo breve strato si legge una grande soddisfazione da parte dell'assessore Guidesi non solo rispetto al via libera del governo ad accordi tra le imprese e la sanità per la possibilità di vaccinare i dipendenti ovviamente non siamo contrari ma io credo che regione Lombardia nella sua giunta manchino una chiara indicazione delle priorità la priorità assoluta è la vaccinazione dei fragili e delle persone più anziane vaccinazioni su cui regione Lombardia è in ritardo rispetto ad altre regioni soprattutto sui fragili ci sono regioni che sono già partite da un mese e invece la regione Lombardia è partita solo il 9 febbraio fortunatamente finalmente con un sistema efficace benissimo che ci siano degli accordi anche con le imprese ma questi devono essere legati a una fase che riguarda i più giovani e quando si è ultimato la vaccinazione dei più fragili perché l'economia può ripartire solo quando avremo messo in sicurezza la parte più in difficoltà davanti al Covid della nostra popolazione quindi credo che in giunta di regione Lombardia ancora una volta dimostrino di non aver chiare le priorità politiche che deve avere la campagna vaccinale Un altro caso che stiamo seguendo è quello degli infermieri di Abbiategrasso risultati positivi al Covid nonostante la somministrazione della doppia dose del vaccino Pfizer a gennaio attesi per oggi gli esiti dei tamponi vediamo se ci sono novità ci colleghiamo con il nostro Stefano Galimberti Stefano Buongiorno Mario esatto sì ci sono novità positive per quanto riguarda i sette infermieri di Abbiategrasso che come ricordavi tu sono risultati positivi al Covid dopo le due dosi di vaccinazioni Pfizer di gennaio e una nota intanto per comunque completezza di informazioni su quello che sta succedendo in generale negli ospedali ci troviamo a Magenda perché qui c'è Nicola Mumoli che è il primario di medicina interna di Magenda e anche di Abbiategrasso quindi per questo ci troviamo qui e in particolare siamo davanti al pronto soccorso proprio perché ieri ci sono stati dieci nuovi ricoveri di pazienti anche sostanzialmente gravi però la questione è appunto quella degli infermieri quindi dottore come stanno le infermiere e come è possibile il fatto di ricontrare il coronavirus nonostante i vaccini Sì, buongiorno a tutti e do innanzitutto una notizia positiva sono passati sette giorni da quando sono risultati positivi ai tamponi e erano due all'inizio della situazione due infermieri erano pauci sintomatici e cinque erano asintomatici ad oggi una delle due sta benissimo e l'altra solo piccoli sintomi come alterazioni del gusto e raffreddore il perché queste infermiere pur essendo vaccinate hanno presentato la positività al tampone è il fatto che abbiamo scoperto che c'è stata nei nostri reparti la variante inglese che come sapete è più diffusiva è più trasmissibile e quindi gli infermieri se lo sono passati tra di loro però il concetto fondamentale è meno male che erano vaccinati perché si trasmette il virus tra un operatore e l'altro ma non si infettano a livello tale da essere ricoverati cioè non prendono la patologia grave non prendono polmonite da covid grave e questo anche nella trasmissibilità quindi c'è proprio il vaccino che diminuisce la potenza del virus e questa è la questione è correttissimo la cosa importante da dire è che si può il virus passare da un soggetto all'altro nei vaccinati però la quantità la carica virale cioè la quantità di virus è talmente basso che sicuramente anche se passa da un soggetto all'altro anche in un soggetto non vaccinato non presenteranno mai questi soggetti positivi al tampone la polmonite grave da covid e questa è una cosa fondamentale d'altro canto oltre a ripetere a ribadire che il vaccino è fondamentale quello che dicono le disposizioni regionali e nazionali è che pur essendo vaccinati devono tenere sempre i dispositivi correttamente cioè devono continuare a tenere la mascherina proprio per evitare maggiormente la diffusibilità del virus bene Mario quindi la situazione dell'infermiere va sicuramente migliorando tra ore e tra qualche ora arriveranno poi i risultati dei tamponi però come detto la situazione è sicuramente sotto controllo grazie Stefano una parentesi di cronaca per un'operazione condotta in mattinata ha portato a cinque arresti nella milanese tra cui il sindaco di opera diversi capi d'accusa gli investigatori hanno anche accertato che le introvabili mascherine almeno nel corso della prima ondata della pandemia venivano regalate a familiari dipendenti e amici sentiamo peculato corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e traffico di rifiuti sono questi i reati di cui sono accusati a vario titolo il sindaco di opera Antonino Lucera insieme alla dirigente dell'ufficio tecnico del comune di opera oltre a tre imprenditori edili arrestati dai carabinieri alle prime luci dell'alba di giovedì 8 aprile e finiti agli arresti domiciliari l'inchiesta coordinata dai procuratori aggiunti Alessandra Dolci e Maurizio Romanelli è stata avviata nel febbraio 2020 per far luce su presunti illeciti posti in essere dalla predetta amministrazione comunale le indagini hanno così fatto emergere come tra febbraio e ottobre 2020 il primo cittadino di opera con l'adesione incondizionata della dirigente dell'ufficio tecnico e la condiscendenza di alcuni funzionari e consulenti dell'ente abbia sistematicamente interferito in alcune procedure di gare bandite dal comune per orientare l'assegnazione di lavori pubblici in favore di imprenditori conniventi ricevendo da questi ultimi sostanziose utilità in tale contesto sono state inoltre documentate gravi condotte delittuose di natura ambientale realizzate dagli stessi imprenditori mediante lo stoccaggio il riutilizzo e l'interramento in aree di cantiere del comune di opera e in area agricola all'interno del parco sud di milano di circa mille tonnellate di fresato d'asfalto ed altro materiale proveniente dalle lavorazioni stradali e da altri interventi appaltati dai comuni di opera locati triulsi san zenone all'ambro segrate e monza attestando falsamente il regolare recupero dei predetti rifiuti speciali mediante formulari ideologicamente falsi ottenuti dai gestori di due centri di smaltimento questi ultimi indagati a piede libero si è altresì accertato che il sindaco di opera nei primi mesi della pandemia ha arbitrariamente distribuito a stretti congiunti e a dipendenti comunali circa 2000 mascherine chirurgiche che la città metropolitana e la protezione civile avevano destinato alle locali RSA e farmacie comunali nel corso dell'operazione sono stati inoltre notificati una misura interdettiva a un architetto bresciano consulente del comune di opera e un decreto di sequestro preventivo di 40 mila euro a carico di pubblici ufficiali indagati nonché di due autocarri utilizzati nella commissione di reati ambientali torniamo a parlare di vaccini ancora inoltrepo torniamo anche da Ermanno Bidone perché la tematica non è solo quella delle mini hub con le polemiche a distanza come abbiamo raccontato tra comuni e ATS ma anche proprio la gestione dei vaccini ieri hai raccontato del caso di 50 anziani rispediti a casa a Voghera appunto per l'assenza delle dosi quali sono gli aggiornamenti e qual è la situazione ad oggi? Sì appunto Mario come dicevi dopo quanto accaduto ieri erano 50 gli anziani che si sono presentati al centro vaccinale di Voghera e poi sono stati rimandati a casa sembra per carenza di vaccini e personale anche se al momento non sono state fornite spiegazioni ufficiali su quanto accaduto questa mattina la situazione è apparsa decisamente più tranquilla con un flusso normale e nessuna persona che si è presentata così spontaneamente senza l'appuntamento per venire poi respinta intanto però non sono mancate le reazioni si stanno accumulando reazioni politiche su quanto è accaduto ieri in particolare dal consiglio regionale la situazione che si è creata ha spiegato il consigliere regionale Giuseppe Villani del Partito Democratico ha messo in difficoltà gli anziani e in imbarazzo gli ottimi professionisti e i volontari che gestiscono l'hub vaccinale ha spiegato Villani gli operatori che erano lì si sono fatti in quattro per riuscire in un'impresa che non era obiettivamente possibile e che è stata determinata ha puntualizzato il consigliere regionale Pavese dai vertici di questa regione non certo da chi opera sul campo e che va assolutamente ringraziato per la sua abnegazione basta con la politica dei proclami ha concluso Villani insomma il caso di Voghera non è stato il solo registrato in regione Lombardia anche se sicuramente uno dei più eclatanti a seguito appunto delle dichiarazioni della vicepresidente di regione Lombardia Letizia Moratti che come ricorderete aveva appunto invitato dal 7 all'11 aprile gli over 80 che si erano prenotati sul portale regionale ma che non erano ancora stati chiamati a presentarsi negli hub e sarebbero stati appunto vaccinati anche senza appuntamento questa la situazione torneremo ovviamente ad aggiornarvi sul prosieguo di queste attività anche perché rimane questo una nota in chiusura un problema proprio con questi over 80 che si erano prenotati ma poi non sono stati chiamati e paradossalmente oggi le persone tra i 70 e i 75 anni stanno ricevendo già degli appuntamenti proprio a partire da questa mattina mentre di queste persone appunto registrate sul portale regionale ultraottantenni al momento non è dato sapere come appunto finirà e quando saranno vaccinate a te la linea grazie Armando come ricordavi anche su questo tema polemiche a livello di regione Lombardia polemiche dell'opposizione del partito democratico sentiamo la presa di posizione del presidente del gruppo del PD Fabio Pizzul Ancora enormi disagi per gli over 80 in Lombardia quest'oggi con la prima giornata del cosiddetto accesso libero ai punti vaccinali per coloro che si erano già registrati al portale di Aria ebbene grande confusione in molti punti abbiamo notizie da Monza da Cernusco sul Naviglio da Voghera da diversi punti insomma della Lombardia con file di anziani che si sono autopresentati ma hanno avuto difficoltà poi a vedere soddisfatta la propria richiesta di vaccino al contrario in altre location pensiamo ad esempio a quella relativa alla fabbrica del vapore piuttosto che a altri punti vaccinali vuoto perché non sono arrivate le prenotazioni per quanto riguarda gli insegnanti ancora caos vaccini quindi certo bisogna far meglio in Lombardia caos vaccini ma non solo le polemiche e le proteste sono anche di natura economica diverse le categorie che stanno scendendo in piazza in questi giorni tra questi gli ambulanti come abbiamo visto un po' in tutto il paese proteste ci sono state anche nel sud Milano come ci racconta Stefano Galimberti che è ancora collegato con noi Stefano esatto Mario proprio questa mattina abbiamo seguito la protesta la manifestazione organizzata dagli ambulanti del Magentino che si sono ritrovati a Parabiago che è la città dove oggi si svolgeva il mercato ovviamente a far parte della protesta tutti gli ambulanti che non vendono generi cosiddetti di prima necessità che quindi in zona rossa non possono partecipare al mercato mentre gli altri colleghi che invece potevano ovviamente hanno anche solidarizzato con loro a Parabiago e quindi nel Magentino anche qui una manifestazione degli ambulanti proprio perché questa crisi non conosce territorio e ovviamente non solo a Milano gli ambulanti presentano difficoltà e a Milano ovviamente è stata la manifestazione più importante quella degli scorsi giorni con molte più persone ovviamente a partecipare anche come un segno ovviamente mediatico maggiore ma gli ambulanti hanno voluto farsi vedere anche qui nel Magentino nel territorio dove lavorano da anni da decenni e questa loro manifestazione segue quella di qualche mese fa fatte dai ristoratori che avevano manifestato invece a Corbetta per quanto riguarda il Magentino e a Trezzano per quanto riguarda tutta l'area del Sud Milano ma appunto lancerei quello che è il servizio che abbiamo realizzato sulla manifestazione di questa mattina a Parabiago e sentirei quelle che sono le voci in presa diretta degli ambulanti vediamo dunque il servizio che ha fatto per noi Stefano Galimberti questa mattina a Parabiago anche gli ambulanti del Magentino a Biatense sono scesi in piazza a seguito della manifestazione di Milano di martedì lo hanno fatto nella mattinata di giovedì a Parabiago dove a protestare sono stati una trentina di commercianti esclusi dai mercati che ogni giorno si svolgono nel nostro territorio solo i venditori di alimentari e altri beni ritenuti di prima necessità possono infatti vendere in zona rossa come ristoratori negli scorsi mesi anche gli ambulanti scendono in piazza perché al blocco delle loro attività non sono seguiti ristori sufficienti noi ambulanti non alimentari e altre poche categorie siamo chiusi il resto è tutto aperto d'altronde non si capisce come mai dopo un anno di chiusure con degli aiuti miseri i contagi non scendono vuol dire che non siamo proprio noi la causa vuol dire che la causa è da un'altra parte voi ci volete dare gli indennizi chiamiamoli così rivolti 2020 su base 2019 ma tu stato ci stai fermando nel 2021 non nel 2020 quindi noi vogliamo i ristori per il 2021 perché siamo alla canna del gas la cosa più importante è il nostro diritto al lavoro certo voi non ce lo potete togliere io ho una figlia ma le bollette le spese di mia figlia io devo continuare a pagarle come le pago ma di che cosa vogliamo parlare noi siamo morti che camminano noi siamo falliti la maggior parte di noi non molla l'osso il colpo perché a 50 anni non sa dove andare e questa la mia attività nel 2023 compie 100 anni io porto avanti l'attività del mio nonno ma muore prima di compiere 100 anni ero orgogliosa di fargli fare 100 anni ma non li fa 100 anni perché io non vado avanti ancora due anni io sono single vivo da sola ma mi mantiene la mia mamma con la sua pensione perché io i soldi per pagare l'assicurazione del furgone a maggio non ce li ho la cosa incredibile è che noi siamo all'aperto il contagio all'aperto come tutti i dati che danno ultimamente praticamente è quasi impossibile noi che siamo all'aperto siamo chiusi i quali a chiuso sono aperti dentro i centri commerciali si può vendere di tutto perché è stato comprovato dai nostri colleghi che hanno fatto dei video e li hanno messi sui social mentre noi della categoria ambulanti non alimentari siamo chiusi basta è ora di finirla noi vogliamo il diritto al lavoro dato dalla Costituzione dall'articolo 4 e lo Stato ci deve mettere in grado di lavorare siamo stufi anche perché di certo non moriremo di Covid però finiremo con qualche altra patologia al cervello perché non ce la facciamo più basta voltiamo pagina torniamo ai fatti di cronaca e sul caso dell'omicidio di Filippo in carbone avvigevano dei mesi scorsi questa mattina abbiamo intervistato il fratello Sandro sentiamo le sue parole quando sono salito il 3 di febbraio che mettevo le locandine per cercare mio fratello a quanto ho capito molte persone sapevano dove stava mio fratello molte persone sapevano sono passati due mesi dalla svolta delle indagini sulla scomparsa avvigevano di Filippo in carbone una svolta che ha portato in carcere Michael Mangano e il suo complice Gianluca Iacullo accusati di omicidio volontario e occultamento di cadavere una svolta che ha permesso dopo intense ricerche di recuperare il corpo di Filippo dalle acque del Ticino il fratello Sandro è tornato in questi giorni avvigevano dalla Puglia sua terra d'origine sta cercando ancora risposte e grazie al lavoro delle forze dell'ordine sempre più elementi stanno venendo alla luce mio fratello è stato ucciso barbaramente buttato in un fiume dopo qualche molti mesi o forse addirittura qualche anno di sevizie di di atti violenti e anche un certo sfruttamento economico i colpevoli adesso sono stati presi però voglio che ci sono anche delle colpe morali Sandro punta il dito contro l'omertà di chi probabilmente sapeva che Filippo era stato ucciso e per un mese il tempo trascorso tra l'omicidio e la risoluzione del caso da parte dei carabinieri non ha detto nulla l'autopsia di cui si aspetta ancora la relazione e il processo potranno chiarire ulteriori aspetti chi ha responsabilità morali chi ha responsabilità leggere chi ha responsabilità gravi e chi ha responsabilità gravissime che sia ben chiara questa cosa che oggi non sono qui per farmi una passeggiata sono venuto per avvocati sistemare cose adesso mi auguro che presto mio fratello dica tutto il suo corpo dica tutto e poi possiamo fare il funerale che merita a Vigevano nelle scorse settimane è stata organizzata una colletta per pagare i funerali di Filippo nelle scorse ore il suo vicino di casa il fiorista Giampiero Veronese ha consegnato le offerte a Sandro che ringrazia ancora che ha dato una mano in questa drammatica vicenda Vigevano ha risposto in una maniera a dir poco cioè commovente ieri sono stato dal signor Veronese e mi ha fatto vedere questa lista delle persone che hanno contribuito con un quadernone di dieci pagine ma un sacco di persone due euro cinque euro dieci euro venti euro cioè proprio migliaia li ringrazio molto per questo ringrazio pure le forze dell'ordine i Vigili del Fuoco protezione civile che ad un certo punto si stavano anche quasi arrendendo però sapevano che dovevano insistere La crisi del mondo del lavoro adesso perché arrivano importanti aiuti economici dalla Camera di Commercio di Pavia sotto forma di bandi dal valore di oltre un milione e mezzo di euro Un milione e 600 mila euro per aiutare le aziende pavesi in un periodo di crisi a tanto ammontano i nove bandi promossi dalla Camera di Commercio di Pavia che ha sviluppato una strategia con interventi concreti per aumentare innovazione tecnologia export e credito l'ente ha messo a disposizione più di un milione di euro a cui si aggiungono circa 500 mila euro stanziati da Union Camere e Regione Lombardia i bandi più significativi in termini economici sono quelli per gli investimenti innovativi 250 mila euro per i voucher digitali 220 mila euro e per l'export 170 mila euro quello con la dotazione più consistente in assoluto rimane però quello per l'abbattimento dei tassi di interesse sui prestiti alle imprese la Camera di Commercio ha messo a disposizione 300 mila euro e altrettanti dovrebbero arrivare da Regione Lombardia una novità di quest'anno è l'adesione dell'ente a un bando nazionale di Union Camere con i ministeri dell'università e dell'istruzione la Camera di Commercio partecipa con 30 borse di studio per i figli di imprenditori in difficoltà si tratta di interventi spiega il commissario camerale Giovanni Merlino che puntano a rilanciare il sistema produttivo della nostra provincia la Camera di Commercio è d'accordo con tutte le associazioni sta facendo tantissimi bandi per un importo superiore al milione e mezzo di euro e sicuramente è importante per la rinascita del nostro territorio bandi che guardano sia il turismo che riguardano l'equidità che riguardano le app le nuove start-up tantissimi bandi che possono aiutare tutto il settore industriale produttivo economico della provincia per cui noi speriamo di partire al più presto per dare i soldi alle aziende torniamo ai temi dell'emergenza sanitaria con una dichiarazione di questa mattina riportata anche da ANSA Lombardia in questi minuti del presidente Fontana circa il possibile passaggio in zona arancione in Lombardia come ricordavamo anche la prenotazione dei vaccini over 80 ma è il tema della zona arancione i numeri che stiamo valutando per mandare la cabina di regia vanno in questa direzione a Detto Fontana la decisione sarà presa domani e dovrebbe diventare efficace a partire da lunedì ovviamente attesa per questa nuova decisione era la nostra ultima notizia in chiusura vi ricordo come sempre i prossimi appuntamenti di giornata alle 17 a Tu per Tu a seguire alle 18 linea attualità e poi i nostri telegiornali attualità attualità